Iniziamo questa sera il nostro percorso nell'interno del Vangelo di Luca mettendo all'inizio ancora il ritratto di una figura che occupava uno spazio rilevante nell'interno dei primi due capitoli, i Vangeli dell'infanzia, la figura di Maria. E la prendiamo, questa figura la presentiamo come un modello per la lettura nostra del Vangelo di Luca perché Luca effettivamente in due passi, precisamente in 2.19.51 e in 2.51 ci presenta un ritratto essenziale di Maria con un participio che io penso particolarmente significativo. Potrebbe essere proprio la rappresentazione del lettore attento dell'Evangelo. Maria conservava tutte queste cose, dice, meditandole, di solito anche la traduzione della ceia, così, meditandole nel suo cuore. Ma come sempre l'originale è più significativo. Se noi andiamo a vedere l'originale greco ci incontriamo col termine sumballusa. Sumballein, mettere insieme il termine simbolo. Maria che ha una lettura simbolica del mistero che sta realizzandosi in lei e attorno di lei. Allora vedete che la figura di Maria perde i connotati di qualsiasi interpretazione eccessivamente devozionale o forse qualche volta persino un po' stantia. Noi abbiamo trovato per lei due participi finora che sono particolarmente illuminanti per Luca. Il pisteusasa della beatitudine di Elisabetta nei suoi confronti e questo sumballusa. Parlare per simboli vuol dire unire, vuol dire coordinare, sumballein, mettere insieme. Un detto del Talmud, il trattato di Erubin diceva, insegna per mezzo dei simboli e fa capire per mezzo delle immagini. Ecco, il simbolo come grande aiuto per unificare, per cercare di cogliere il cuore, la radice di un messaggio. E ora noi guarderemo proprio a Maria, la metteremo proprio davanti ai nostri occhi durante il percorso che faremo come colei che sa avere una lettura simbolica e che ci invita a fare una lettura simbolica e non soltanto del dettaglio. E naturalmente la salutiamo ancora con la sua caratteristica di credente e di interprete della parola, più che non con altre caratteristiche forse marginali, fermo restando quel grande centro, quel grande titolo capitale che è madre del Signore, come ci ha insegnato Luca. E a questo proposito allora vorrei dire solo due cose, poi passiamo al testo, vero e proprio, due cose riguardanti Maria ma che toccano un po' tutti i lettori dell'Evangelo. Prima di tutto la prima indicazione la raccoglierei, proprio partendo dallo spunto di Luca, la raccoglierei da un volume. Volume che è stato pubblicato anni fa, nel 1976, dalla Cittadella di Assisi, opera di un teologo, Ober, e il titolo è abbastanza provocatorio, la donna, antifemminismo e cristianesimo. Ma c'è un paragrafo che riguarda Maria e che è particolarmente significativo, soprattutto se lo collochiamo anche in questa settimana, che ha avuto alle spalle la giornata della donna. Nelle deviazioni subite dal culto mariano, troviamo la riduzione del modello di Maria alla femminilità ideale, nel senso di una esaltazione di virtù che dovrebbero essere proprie solo della donna. La modestia, l'abnegazione, l'accettazione rassegnata della volontà di Dio, tutte cose vantaggiose agli uomini. In tal modo ridurre la Madonna a essere un simile modello solo femminile, è un mezzo sicuro per svalutare il suo culto e distogliere da esso le donne moderne, e non solo le donne moderne. Ecco, non è un modello solo femminile, ella è capace di meditare, di comprendere, è capace di credere, ed è la madre del Signore. Sono degli emblemi, sono dei segni che devono un po' toccare tutti. E dall'altra parte, l'altra testimonianza naturalmente è quella della sua conoscenza più profonda, più intensa. E' questa sua conoscenza più profonda e più intensa che noi non possiamo raggiungere, quella rappresentata appunto dal mistero della maternità divina. E su questo allora vorrei fare un'altra testimonianza, lasciarvi un'altra testimonianza e poi entreremo nel Vangelo. La testimonianza questa volta l'ho trovata proprio in uno di quei tanti libri che ho ricevuto, che ricevo di solito quest'anno per recensione o per conoscenza, riguardanti Maria. Ed evidentemente molti appartengono al genere che si potrebbe definire senza esitazione, cascame, religioso. Ora, in uno di questi, in un'antologia di 365 pensieri mariani, intitolato appunto Ogni giorno con Maria, ho trovato un testo che io non conoscevo, proprio in apertura, per il primo giorno dell'anno, per Capodanno, un testo di Sartre. Non so se è fondata o no la citazione, però che Sartre parli di Maria in questa maniera mi ha particolarmente incuriosito perché è un po' il riassunto profondo del discorso di Luca, fatto finora. Diceva, scriveva Sartre, almeno stando a questa citazione, Maria avverte nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo bambino ed è Dio. Lo guarda e pensa, questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatto di me, ha i miei occhi, la forma della sua bocca è la forma della mia, mi assomiglia, e Dio eppure mi assomiglia. Nessuna donna ha mai potuto avere in questo modo il suo Dio per sé sola, un Dio bambino che si può prendere tra le braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che ride. Questa bella pagina sottolinea una dimensione che subito noi vedremo in Luca, la dimensione della incarnazione, di questa carnalità del Dio di Luca, del Cristo di Luca. Ebbene, noi questa sera avremo quasi di fronte come un dittico due quadri. Il primo quadro lo percorriamo subito. Ha come fondale la Galilea, questa regione settentrionale palestinese che assomiglia molto, quasi, alla nostra Umbria, almeno in certi periodi dell'anno. Una regione verde, una regione dolce, dai colli anche, che sono quasi ravviati. Ecco, nell'interno di questo sfondo noi troviamo la narrazione dal capitolo terzo del Vangelo di Luca fino al capitolo nono, versetto cinquanta, dove c'è la grande svolta. Ecco, noi immagineremo adesso di seguire questi capitoli con una selezione, come è ovvio, immagineremo di seguire questi capitoli dal tre al nove con gli occhi di Luca, che non sono gli occhi degli altri evangelisti. Luca ha un'attenzione più spiccata. Vorrei dire che proprio questi occhi sono un po' il segno della sua redazione, il segno della sua attenzione, della sua selezione teologica nell'interno dei molti ricordi che la tradizione gli aveva affidato, che gli aveva messo sulle spalle. C'è un verso di un poeta, Carducci, un poeta che a dire il vero non mi è mai particolarmente piaciuto, ma mi sono riconciliato con lui quando ho trovato questo verso nei Levi a Gravia e tutta gli occhi s'affacciava l'alma, tutta l'anima che appare agli occhi. La tradizione rabbinica diceva si può vedere l'anima negli occhi. Gli occhi sono finestrelle fatte perché l'anima si possa affacciare. Ecco, guardiamo quali sono questi occhi di Luca mentre viaggia con Gesù per la Galilea. Primo sguardo è uno sguardo caratteristico di Luca, del Gesù di Luca, uno sguardo che si fissa con attenzione su ciò dal quale noi di solito distogliamo lo sguardo. Uno sguardo che si fissa su realtà che sono stridenti, realtà che sono qualche volta fastidiosi, che sono persino scandalose. Ecco, è il tema famoso della socialità. Il Vangelo di Luca è particolarmente attento alla giustizia, agli scandali che si perpetrano continuamente nell'interno della storia. Passando per le strade del mondo, l'ingiustizia è forse la cittadina dominante, è la popolazione più viva, più prospera all'interno delle nostre piazze e delle nostre strade. E Gesù fissa gli occhi su questo. Guardate bene che nel Vangelo di Luca potremmo dire quasi in sintesi quella frase che era stata scritta da Graf. È molto più facile essere caritatevoli che giusti. E questo molti cristiani lo dimostrano continuamente, molte strutture cristiane, molti editori cristiani, io vedo nel mio piccolo, sono pronti ad essere caritatevoli, ma non sono pronti ad essere giusti. Così anche tante strutture nostre non sentono immediatamente l'istanza fondamentale della giustizia. Allora vorrei proprio mostrarvi questo animo di giustizia che affiora agli occhi di Gesù, del Gesù di Luca. Lo mostro subito nell'attenzione che Luca induce nel dialogo che il Battista, colui che annuncia il Cristo, ha. Il Battista stesso, che è in pratica un annuncio, è una specie di preannuncio del Cristo, è subito automaticamente attento. Anche egli ha questa realtà. Sentite questo dialogo che è riferito soltanto da Luca e ignoto agli altri evangelisti. Le folle interrogavano il Battista. siamo nel capitolo terzo dal versetto dieci al quattordici. Che cosa dobbiamo fare? Ed ecco la risposta del Battista. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare. Gli chiesero maestro che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati e noi che dobbiamo fare? La rispose non maltrattate non estorcete niente a nessuno contentatevi delle vostre paghe. Voi vedete che per tre categorie di persone che sfilano davanti al Battista per tutte e tre la risposta è sempre quella la giustizia prima di tutto. Ed eccoci davanti anche a un'altra pagina questa volta è Gesù. Siamo nel capitolo sesto. Abbiamo uno strano sfondo entro cui è inserito questo discorso che parzialmente ricalca un celebre discorso di Matteo i capitoli 5 e 7 il discorso della montagna. Voi sapete che quella montagna anche se poi la tradizione cristiana ha cercato di identificare in un punto preciso mettendo anche il santuario delle beatitudini in realtà noi sappiamo bene che quella montagna per Matteo è senz'altro una montagna più teologica che orografica che topografica tant'è vero che Luca ci dice senza nessun imbarazzo che Gesù quando pronunciò quel discorso molto più abbreviato in Luca si trovava epi topu pedinu su un luogo pianeggiante il monte è il sinai cristiano per Matteo per Luca questa indicazione non ha rilievo ma il discorso che Gesù tiene su quel luogo pianeggiante è un discorso tutto centrato diversamente da quello di Matteo che spazia sui vari temi dell'esperienza cristiana fino a diventare una vera e propria magna carta del cristianesimo il discorso invece di Luca è ancora fisso su quel tema l'anima della giustizia si riaffaccia agli occhi ora di Gesù e basterebbe soltanto guardare la struttura delle beatitudini voi le avete in mente perché di solito si leggono nella liturgia nella versione di Matteo e la versione di Matteo è la versione più solenne se volete più sapienziale è alla terza persona beati i poveri per di più si aggiunge quell'espressione beati i poveri in spirito che è una dichiarazione di radicalità sì ma espressa in una maniera abbastanza a largo raggio a largo orizzonte poi ancora non abbiamo in Matteo se non le beatitudini ora guardiamo invece la dichiarazione di Luca beati voi poveri non è più genericamente i poveri in spirito ma sono i poveri semplicemente voi che egli ha davanti che Gesù ha davanti perché vostro è il regno di Dio beati voi che ora avete fame perché sarete saziati beati voi che ora piangete perché riderete beati voi quando gli uomini vi odieranno eccetera e poi subito dopo ecco le maledizioni che Matteo ignora guai a voi o ricchi perché avete già la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti ecco un modo tutto nuovo di reinterpretare le beatitudini con una dimensione sociale molto più marcata è veramente un lavoro di accetta redazionale che Luca fa in modo tale da rendere quelle beatitudini quasi direi utopiche trassognate come erano in Matteo inglobanti un orizzonte immenso renderle molto più ristrette molto più orientate sulle ingiustizie concrete che Gesù ha davanti agli occhi quel voi martellato martellato soprattutto in quella povera gente che gli ha di fronte e quel voi accompagnato dal guai che viene lanciato idealmente per l'aria perché raggiunga i palazzi e Luca è attento sempre su questa su questa capacità di vivere l'attenzione agli altri al povero abbandonando anche l'attaccamento guardate per esempio ci sono alcune volte dei dettagli che sono minutissimi ma che mostrano questa sensibilità gli altri evangelisti quando raccontano la vocazione dei discepoli lungo il lago di Tiberia del lago della Galilea ricordano soltanto che Gesù passa li chiama e essi quei uomini lo seguono Luca invece ha un altro aspetto ha un'altra sottolineatura con un particolare soltanto tirate le barche arriva dice in 511 lasciarono tutto e lo seguirono questo lasciarono tutto non c'è negli altri evangelisti e se noi cerchiamo la vocazione di Levi raccontata dallo stesso Matteo al banco delle imposte all'ingresso della città di Cafarno lungo la strada che conduceva in Siria dove c'era una specie di vera e propria dogana ebbene Matteo ricorda soltanto che si alzò lasciò il banco della dogana e andò con Gesù offrendogli un banchetto Luca invece in 527 28 scrive così Levi sente questa parola al banco seguimi ed egli lasciando tutto si alzò e lo seguì questa donazione completa per la giustizia e per gli altri distaccandosi da tutto e questo motivo sarà un motivo che ritornerà frequentissimamente nel Vangelo lasciare tutto non avere ancora come la moglie di Lot qualcosa nel passato e l'ultimo esempio che voglio darvi di questo animo di questa anima della giustizia che affiora gli occhi di Gesù è in un episodio in un discorso che per Luca è certamente l'equivalente del discorso della montagna per Matteo è il grande discorso programmatico di Gesù abbiamo già detto che il discorso della montagna ora diventato della pianura in Luca è semplicemente contratto attorno al tema della giustizia attenzione ai poveri agli affamati agli assetati e ai perseguitati il famoso siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste se voi leggete il discorso del capitolo sesto diventa così in Luca siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro celeste finito questo Gesù però ci offre una specie di dichiarazione programmatica che è parallela a quella del discorso della montagna ma il contenuto è diverso è nello spirito di questa tensione lucana di questa selezione che Luca fa nei vari materiali della tradizione alla ricerca del materiale fondamentale ebbene siamo nella cittadina di Gesù Nazare nel villaggio e in questo villaggio che ora è cresciuto e diventato città c'è ancora oggi e si ricorda una c'è una piccola chiesa greco-cattolica la quale è chiamata tradizionalmente la scuola del Messia perché si immagina che lì esisteva una volta la sinagoga di Nazareth in realtà noi sappiamo che quell'edificio è un edificio crociato e non sappiamo dove fosse la sinagoga di Nazareth comunque Gesù un giorno arriva nel suo villaggio e di sabato va in sinagoga e mentre si celebra la liturgia un mormorio invade l'assemblea perché è arrivato quest'uomo di cui si parla è una specie di gloria del villaggio ed egli segue la liturgia ed era uso che colui che presiedeva la liturgia il rabbino in pratica non necessariamente un sacerdote il rabbino leggesse il rotolo della Bibbia in questo caso si leggeva in quell'occasione Isaia e lo leggesse in ebraico evidentemente la lingua in cui era stato scritto però l'ebraico in quei tempi corrispondeva più o meno al nostro latino forse un po' meno al nostro latino era poco capito era più capito di quanto lo fosse il latino ma meno di una lingua immediata e diretta e allora c'era di solito da fare un lavoro che era compiuto dallo stesso rabbino o da un altro che sapeva qualcosa di più il quale traduceva in aramaico il testo letto questa persona che faceva questa che aveva questa funzione da compie si chiamava il meturgeman che contiene la radice di targum e targum è diventata la parola aramaica per indicare appunto l'interpretazione la traduzione in realtà le traduzioni non sono mai tali erano delle parafrasi anche perché a certe volte chi traduceva non sapeva molto bene l'ebraico e quindi dava a senso il significato ecco questa parola targum che è entrata tra l'altro nell'italiano dragomanno ufficiale interprete ha come origine la parola aramaica targum ecco il targum viene fatto quella volta da Gesù ma ascoltiamo questa scena celebre si recò a Nazareth nel capitolo quarto dal versetto sedici in avanti si recò a Nazareth dove era stato allevato ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere mi fu dato il rotolo del profeta Isaia aperto lo trovò il passo dove era scritto e attenzione alla citazione Isaia 61 lo spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato collunzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio in greco abbiamo euangelizomai euangelion in ebraico abbiamo l'equivalente ebraico di euangelizomai evangelizzare bisseri in ebraico per proclamare ai prigionieri la liberazione ai ciechi la vista per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore poi arrotolò il volume lo consegnò all'inserviente e sedette a questo punto scatta il midrash cioè non più la parafrasi ma l'omelia gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui e Gesù pur allargando poi il suo discorso fa in pratica una dichiarazione che è già tutta la sua omelia e che è veramente una specie di attribuzione di sigla attribuzione di sigillo di stemma a se stesso avete sentito la dichiarazione di Isaia una dichiarazione che annuncia un grande giubileo l'anno di remissione per eccellenza un giubileo per tutti i poveri ciechi oppressi ebbene Gesù dice soltanto oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito ai vostri orecchi oggi si è adempiuta in lui si deve realizzare questa grande attesa questo grande annuncio per i poveri del mondo ecco questa attenzione sociale questa attenzione che è nei confronti del povero particolarmente viva vivace c'è tesa quasi in Luca e naturalmente voi sapete che poi lo sviluppo di quella omelia sarà tragico perché i nazaretani si aspettavano ben altro erano già poveri e non volevano sentire tanto questa accoglienza ma magari volevano sognare sognare qualcosa di più grande quei famosi segni che si diceva che egli compisse e la tradizione cristiana crociata medievale quindi ha lasciato c'è ancora la possibilità di vederlo oggi a nazaret ha lasciato un ricordo molto curioso una chiesetta che è posta verso il ciglio in realtà è molto più in là dove era l'antica nazaret comunque verso uno sperone roccioso che va in un avvallamento hanno costruito una chiesetta e questa chiesetta l'hanno intitolata in latino molto suggestivamente Santa Maria Tremoris Santa Maria della paura perché voi sapete che idealmente si immagina che Maria seguisse angosciata il figlio dopo questa infelice sortita nel villaggio lo segue col terrore che venga precipitato ecco questo era il primo sguardo di Luca il primo sguardo di Gesù uno sguardo che naturalmente deve essere declinato continuamente nell'interno della nostra storia cristiana come un appello urgente è più facile essere caritatevoli che giusti prima di tutto la giustizia la giustizia nei confronti di questi scandalosi squilibri il secondo tema è sposato col precedente altrettanto caro a Luca io vi ho già ricordato che nel capitolo terzo proprio in apertura di questa sezione galilaica egli ci riferiva la data niente meno che dell'impero di Tiberio Cesare il quindicesimo anno più o meno che oscillava secondo gli studiori tra il 27 e il 29 il battista comincia quella predicazione e Cristo appare in quella cornice con tutta l'indicazione dei vari funzionari noi nello stesso capitolo terzo vediamo che Luca ci offre la genealogia di Gesù voi tutti avete forse in mente la genealogia con cui si apre il Vangelo di Matteo e voi sapete che è una genealogia dall'alto se volete meglio dalla radice si va verso la fioritura Luca fa il contrario parte dalla fioritura e giunge alla radice ma la radice è diversa per Matteo la radice è Abramo l'inizio di Gesù è in Abramo e in Davide l'inizio di Gesù invece per Luca è in Adamo infatti l'ultima frase quella del versetto 38 del capitolo terzo dice figlio di Enos figlio di Seth figlio di Adamo figlio di Dio si arriva fino al creatore fino al primo uomo all'uomo Cristo come fratello degli uomini Cristo come cittadino dell'umanità non solo di Israele ecco la dimensione della storia umana questa dimensione noi sappiamo è formalizzata veramente abbiamo detto quando abbiamo aperto il nostro corso Cristo centro di Mittederzeit come diceva quel testo di Conselman Cristo centro punto di mezzo del tempo ebbene noi vediamo che Luca e Gesù di Luca ci invita continuamente a non perdere il significato del tempo questa realtà che continuamente ci sfugge dalle mani e che in realtà è la nostra specifica qualità voi vedete lo spazio esterno a noi il tempo è dentro di noi noi ora lo stiamo facendo morire muore per noi il tempo non è il tempo atomico calcolato dagli orologi il tempo dagli orologi scientifici è il tempo che è dentro di noi la vera categoria fondamentale e difatti noi sappiamo non c'è bisogno della grande riflessione agostiniana per sapere che il tempo è diverso tanti quanti siamo qui presenti ci sono alcuni che riescono a stare un'ora e passano un'ora certe volte come se fosse un istante solo non vi è mai capitato durante una lettura e il tempo passa così all'improvviso e altre volte in cui avete qualcosa che vi macera questo tempo è implacabile su di voi ebbene Luca dice è il tempo il luogo della rivelazione ed è nel tempo che dobbiamo rispondere ed è a questo proposito che sarebbe da commentare io accenno solo al capitolo ottavo è il famoso capitolo delle parabole ora badate bene voi tutti sapete perché questa cosa è già stata ripetuta tante volte credo in diversi contesti che le parabole del capitolo ottavo ripetute nel capitolo quarto di Marco e nel capitolo treici di Matteo sono delle parabole pronunciate da Gesù e commentate dalla Chiesa c'è un commento ricordate la parabola del seminatore pronunciata da Gesù e poi commentata ora tra parabola pronunciata da Gesù e commento c'è un divario Gesù annuncia sostanzialmente questo tema il regno di Dio prosegue nonostante i diversi terreni ci sono dei terreni spinosi sassosi dei terreni buoni ma il regno di Dio continua vedete ci sarà un pezzetto di terreno in cui darà il 30 il 60 il 90 per uno il commento è diverso e Luca soprattutto lo muta profondamente quando Gesù si ritira con i suoi discepoli fa quel commento quel commento gli ha messo in bocca dalla tradizione della Chiesa è l'omelia della Chiesa e adesso io vorrei mettere davanti ai vostri occhi proprio in perfetto parallelo un versetto soltanto del commento della predica di Marco e un versetto soltanto della predica di Luca per farvi vedere come quella parabola da parabola del regno di Dio parabola teologica diventa sempre di più parabola antropologica cioè parabola della nostra risposta dello sfruttare il tempo dell'essere fedeli e costanti nel tempo ma Luca va più in là di tutti in questa applicazione Marco nel capitolo quarto finiva così quelli che ricevono il seme su terreno buono sono coloro che ascoltano la parola l'accolgono e portano frutto nella misura chi del 30 del 60 e del 100 per 1 dichiarazione abbastanza semplice l'accento vedete non è più il regno di Dio che passa e comunque ha successo è già l'impegno del saper ascoltare accogliere portare frutto ma guardate come Luca trasforma questa frase in 815 il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutti con la loro perseveranza guardate l'insistenza sul produrre sulla perseveranza sul cuore buono sull'uomo l'uomo che nell'esistenza sua accoglie questa irruzione del divino l'upomonè portare tenere sopra quasi portare tenere sulle spalle è la perseveranza di Luca e ancora non contento quando finisce il racconto mette una scenetta una scenetta che gli altri evangelisti mettono in un altro contesto mettono prima del discorso delle parabole giù lo mette proprio alla fine perché è il commento ultimo per lui delle parabole parabole come capacità di sfruttare in pienezza facendo il tempo insegnamento morale etico la scena finale è questa 8 19 21 gli fu annunziato a Gesù tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti la risposta piuttosto glaciale di Gesù ma significativa mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica bellissimo il greco molto più essenziale di questo ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica acuontes caipoiuntes due participi sono gli ascoltatori e i facitori ascoltare e fare ascoltare e obbedire poi e adesione ecco quindi questo grande tema del presente guardate se noi sfogliassimo il vocabolario di Luca ci accorgiamo che per esempio nel Vangelo per quattordici volte e negli atti degli apostoli per venticinque volte risuona l'avverbio nun ora proprio l'istante da non perdere trentanove volte quindi nello scritto lucano per undici volte in Luca e per otto volte negli atti degli apostoli una ventina di volte quindi ancora ricorre l'avverbio Semeron dacci oggi il nostro pane quotidiano traduce a Matteo Luca insiste ancora di più e dice dacci per ogni singolo giorno Cathemeran questa importanza di ogni singolo giorno l'importanza dell'ora beati voi che ora avete fame e da questo quindi emerge sempre di più questa grande importanza di questa realtà perché grida Gesù non comprendete quest'ora ecco a questo punto però dobbiamo fare una considerazione che ci permette di passare alla seconda scena è uscito nei giorni scorsi sono riuscito a leggere qualche pagina un libro scritto da un nostro politico Giorgio Ruffolo intitolato Potenza e Potere ma non mi interessa tanto il contenuto di quel libro quanto piuttosto una parabola che lui mette all'inizio più che una parabola è un ricordo storico in Cina durante la grande dinastia dei Shin nel 220 avanti Cristo circa ci fu un sovrano un celebre sovrano di grande splendore di nome Shuanti Shuanti il quale decise che ormai la civiltà aveva raggiunto il suo vertice cioè il presente era veramente il tutto non avevamo più bisogno di progresso era l'oggi da vivere e l'oggi si incarnava in Shuanti in lui e nel popolo che gli stava attorno e allora che cosa ha fatto? ha tentato di fermare il futuro e naturalmente di bloccare il passato ha fatto bruciare tutti i libri ha fatto consumare qualsiasi possibilità di ricordo scalpellare qualsiasi iscrizione in modo che il passato tacesse e poi ha fatto costruire la primo grande troncone della grande muraglia perché non arrivassero altri popoli a indicare un qualcosa di diverso mai e in questa oasi chiusi provare a vivere questo presente perfetto ecco questa è una tentazione che Luca evita l'oggi è un oggi mirato l'oggi e l'ora sono tanti tante piccole perle di una catena di una collana che prosegue ed ecco allora la seconda grande parte del Vangelo quella seconda grande parte che ora dobbiamo esaminare quella che ha dato il titolo anche alla nostra conferenza di questa sera la marcia verso Gerusalemme c'è l'oggi che è importante ma c'è un poi c'è Gerusalemme guardate una curiosità non so se vi siete mai chiesti se avete mai notato questo particolare ma tutti i particolari ho detto sono un po' all'affacciarsi di questa animetta segreta questi piccoli segnali dell'anima di Luca e di Gesù quando si descrivono le tentazioni Matteo sceneggia le tentazioni in modo tale da mettere il deserto primo quadro secondo quadro il pinnacolo del tempio terzo quadro il monte ed ecco ancora per Matteo ancora una volta il monte Luca riceve questa tradizione l'ordine muta deserto monte l'ultima tentazione sul pinnacolo del tempio a Gerusalemme anche per Gesù tentato sconvolto dalla tempesta della tentazione il vertice è Gerusalemme e allora ecco questa grande svolta che è segnata da 951 fino a 1927 dieci capitoli il 951 l'abbiamo già ricordato mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo o meglio in greco si stavano compiendo i giorni della sua assunzione l'ascensione è l'ultimo passo del Cristo verso il cielo si diresse decisamente verso Gerusalemme ecco guardate questo itinerario questi dieci capitoli sono i capitoli più lucani in assoluto Luca veramente intesse tutte le sue fonti personali sulla figura di Gesù ed è per questo motivo che noi avendo dedicato una conferenza finale alle pagine più belle di Luca ora questa sera non potremo selezionare granché ma sarà proprio nell'ultima conferenza quando vedremo le pagine più splendide più celebri più trassognate nella stessa storia dell'arte ma più cariche nella storia dell'esperienza della fede cristiana ebbene noi continueremo a rifarci a questi capitoli sono veramente il repertorio lucano tant'è vero che gli studiosi con un'espressione molto brutta usano dire la grande interpolazione lucana è come una specie di innesto tutto lucano nella vita di Gesù per la vita pubblica di Gesù dopo aver parlato un po' in Galilea Gesù Luca dice Gesù continua a camminare cammina inesorabilmente verso Gerusalemme ed eccoci alcune ora di queste lezioni che Gesù ci lascia ancora una volta questo apparire delle caratteristiche del Gesù di Luca la prima è proprio la prima scena che ci si viene incontro stanno camminando verso Gerusalemme e Gesù mandò avanti dei messaggeri questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi con lui la ben nota setta ereticale in costante tensione con gli ebrei ora ridotta a un pugno di non molto più 400 persone che però si conservano ancora intatto la loro religione la loro razza sposandosi sempre tra di loro e con conseguenze spesse volte deleterie tutti presenti a Nablus tranne un piccolo gruppo che si trova vicino a Tel Aviv a Holon questo gruppo di samaritani che discendono ancora dal popolo miscelato dei samaritani che nel 722-21 al momento della distruzione di Samaria da parte degli assiri si unirono con i coloni importati dagli assiri una razza quindi un po' mista ma che d'altra parte si è conservata intatta con quel numero così esiguo dando quasi un esempio di enclav razziale straordinario anche culturale con la celebrazione della loro Pasqua sul monte Garisin ancora oggi con tutto il rituale preciso del libro dell'esodo perché essi riconoscono come parola di Dio soltanto i primi 5 libri della Bibbia la Torah il Pentateuco ebbene ecco la reazione essi non vollero ricevere Gesù perché era diretto verso Gerusalemme andava al pellegrinaggio nella concorrenza nell'altro santuario quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero Signore vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio bella questa dichiarazione così lapidaria contro gli integristi di tutti i tempi pronti sempre ad invocare maledizioni fuochi dal cielo contro tutti quelli che non la pensano come loro quando è che sono fuori della loro cittadella considerata la cittadella giusta Gesù li rimproverò ecco questa tensione continua del Vangelo di Luca caratteristica l'universalismo Luca è continuamente teso verso i grandi orizzonti probabilmente perché anche il suo messaggio egli lo vuole lanciare a gente che non è vissuta solo nell'interno del ridotto della Palestina ma che ormai ha vastissimi territori davanti a sé quando canta Simeone il suo saluto al piccolo Gesù dice salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per illuminare le genti il Battista quando predica dice ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ogni uomo e Cristo è figlio di Adamo come abbiamo detto Gesù ricorda con piacere il Gesù di Luca assomiglia molto spesso a Luca quella frase che avete sentito tra l'altro citata dai discepoli nel racconto di Elia Luca ama rappresentare spesso Gesù come Elia il nuovo Elia e allora ricorda con piacere quell'episodio della vedova di Sarepta Elia era andato fuori dei confini a salvare quella ad aiutare quella vedova e Gesù nel discorso di Nazareth ricorda questo episodio mettendolo quasi come una specie di segno della sua missione del suo destino ricordiamo i passi samaritani di Luca il buon samaritano sul quale ritorneremo alla fine del nostro ciclo come protagonista la scena solo lucana anche il parabolo del buon samaritano è solo lucana la scena solo samaritana dei dieci lebrosi dieci lebrosi tutti guariti uno solo torna a ringraziare e nota a Luca ed era un samaritano e allora Gesù gli dà qualcosa di più erano dieci guariti ma uno solo sarà il salvato e darà una guarigione più completa e più totale il gioco dei verbi greci è significativo al riguardo parla del centurione del servo malato come gli altri evangelisti ma il centurione del servo malato di Luca ci fa pensare già ammicca al centurione Cornelio del capitolo decimo degli atti e soprattutto abbiamo anche una prova ex silenzio voi avrete in mente certamente quell'episodio della guarigione della figlia della sirofenicia siamo nella zona dell'attuale Libano Gesù guarisce però guarisce parlando da ebreo con un certo distacco e con un filo di disprezzo l'incarnazione del Cristo nei confronti dei non ebrei che venivano chiamati con quell'espressione poco simpatica ma meno carica di disprezzo come per noi cani bisogna forse dare il pane prendere il pane dalla mensa dei figli e darlo ai cagnolini e la donna risponde prendendo il filo proprio del discorso della battuta quasi ma le briciole sì e allora Gesù celebra la fede di questa donna che non ha veduto neppure in Israele simile Luca cancella questo episodio e voi tutti capite perché questo parlare di cani così nei confronti del non ebreo gli creava difficoltà e gli lo omette un secondo tema un tema molto caro a Luca anche questo è veramente trapuntato nell'interno di tutte queste pagine e anche delle pagine precedenti la preghiera Cristo il grande orante quando Gesù è battezzato Luca è l'unico che dice in 321 che nel momento del battesimo Cristo sta pregando è proseu homenos è in preghiera dopo la guarigione dell'ebroso 516 Gesù si ritira nel deserto a pregare solo Luca prima prima dell'elezione dei dodici Gesù capitolo sesto versetto dodici passa una notte da solo sul monte in preghiera solo Luca prima della confessione di Pietro Gesù 918 è tutto solo in preghiera prima della trasfigurazione e durante la stessa trasfigurazione 928 Gesù è quasi il perfetto orante avvolto nel mistero della contemplazione e la scena fondamentale per Luca è la scena che incontreremo nel prossimo incontro quella del Gezzemani tutti raccontano la preghiera di Gesù nel Gezzemani ma Luca l'ha fatta l'ha costruita in modo tale l'ha intersiata proprio in modo tale che tutti comprendessero qual era la lezione Gesù in quel momento vuole insegnarci la preghiera dell'oscurità la preghiera del silenzio del silenzio di Dio la preghiera più difficile la preghiera più drammatica la preghiera di Giobbe e Gesù è il perfetto orante in quel momento come ce lo insegna con una tecnica semitica la tecnica dell'inclusione mettere all'inizio e alla fine la lezione quello che si vuole insegnare voi sapete che amano molto gli orientali dire all'inizio del tema e riprenderlo in finale in modo tale quasi da unire da raccogliere il quadretto in unità con un determinato tema e allora ecco 22.42 in apertura Gesù si presenta ai discepoli e dice pregate per non entrare in tentazione e poi comincia il suo dramma con Dio una preghiera lotta una preghiera agonia Paolo con quella bellissima espressione della lettera aiutatemi a combattere nelle preghiere come tradurre il verbo sinagonizestai Paolo dice così aiutatemi a sinagonizestai la preghiera come agonia anche non è vero che la preghiera è solo consolazione la preghiera nel momento scuro è lotta e Cristo la sente persino fisicamente questa lotta come sottolineerà Luca medico forse proprio per la sua professione con quel sudore di sangue e in finale 22.46 Gesù ripete la lezione ripete il motivo alzatevi e pregate per non entrare in tentazione e sulla croce Gesù come sapete in Luca prega con una preghiera unica voi tutti avete in mente la preghiera che gli altri evangelisti mettono sulle labbra di Gesù e che anche Luca conosce la preghiera del Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato la preghiera della lotta del silenzio per Luca invece le ultime parole di Gesù non sono quelle le ultime parole di Gesù sono col salmo 31 Gesù prega con i salmi e con quella dolcissima espressione che è la classica espressione della fiducia biblica quella del mettersi nelle mani di Dio la preghiera dei poveri la preghiera del bambino come dice il salmo un altro salmo 131 ebbene nelle tue mani affido consegno il mio spirito è l'ultima preghiera di Gesù ma Luca non è contento ancora e dato che ha fatto camminare sempre con questo Gesù orante i suoi discepoli finalmente vuole che questi discepoli sappiano anche essi pregare ed eccoli allora nell'ultima riga assoluta del Vangelo la conclusione in 24 53 quando tutti insieme sono rappresentati nell'interno del Tempio mentre pregano lodano Dio stavano sempre nel Tempio lodando Dio e il Vangelo finisce così con i discepoli che pregano e si inizierà in pratica la seconda opera di Luca con la comunità che prega prima di passare all'ultimo tema che vorrei sviluppare vorrei dirvi un particolare Luca ha soltanto un episodio un episodio disgraziato disgraziato per l'interpretazione che ha subito un'interpretazione forviante è l'episodio di Marte e di Maria questo episodio è stato visto da sempre come la contrapposizione tra il contemplare e il fare tra la vita attiva e la vita contemplativa la vita attiva e miserabili quelli che la devono condurre sono nell'interno delle pentole delle cucine delle fucine degli uffici delle strade dei rumori delle strade infelici loro beati quelli che sono invece nella nobiltà del silenzio nella nobiltà della loro mente nella loro contemplazione ecco questa lettura è una lettura assolutamente fuorviante il senso di questo brano non è assolutamente questo il fare e l'ascoltare non sono assolutamente subordinati ma sono invece da associare l'elemento fondamentale è nell'interno di due modelli che Gesù presenta che non sono i modelli delle professioni ma sono i modelli degli atteggiamenti guardate bene alla frase quando lo leggerete a due frasi Maria stava ai piedi del Signore ascoltando la sua parola l'espressione stare ai piedi nel linguaggio di Luca e anche nel linguaggio biblico come ascoltare è proprio la definizione tipica del discepolo che ascolta è un atteggiamento squisitamente interiore Marta invece si dice era tutta presa dalle faccende vedete che non è tanto il lavoro gli statuti sociali delle persone Maria anche Maria apparteneva a quello stesso orizzonte la sua vita era lì la stessa della sorella ma la descrizione è dei due atteggiamenti interiori essere assorbiti dalle cose dominati conquistati in modo da non avere più spazio e dall'altra parte invece avere sempre aperto quel canale verso l'infinito anche se si è completamente nelle cose e voi sapete bene d'altra parte che il monaco solitario può avere nel suo interno una tempesta maggiore essere tutto preso dalle faccende molto più della persona unita profondamente a Dio che è nel rumore più feroce di una città o di un'industria o di un lavoro ecco la preghiera lucana non autoesclusione fare ed ascoltare non si elidono a vicenda non sono subordinati ma sono sposati sono associati ed eccoci allora dicevo all'ultimo tema l'ultimo tema che sottolineiamo durante questo cammino ecco l'ultimo tema è quello naturalmente rappresentato dalle parabole rappresentato soprattutto ancora una volta dagli ultimi ripetutamente Luca nel viaggio di Gesù verso Gerusalemme è preoccupato di mostrare questa attenzione continua di Gesù nei confronti degli ultimi e lo fa con le parabole pensate la parabola del figlio prodigo pensiamo alla parabola della moneta perduta della dramma perduta della pecora smarrita pensiamo all'attenzione che Gesù ha nei confronti dei pubblicani prostitute e peccatrici l'episodio forse più emblematico è quello di Zaccheo solo Lucano anch'esso quell'episodio di un uomo il quale viene strappato dal suo essere ultimo negativo egli resta un ultimo un disprezzato ma la sua vita è mutata e per il regno egli è un primo ricordate quella scena di Gerico ambientata in Gerico con quest'uomo e il sicomoro questo albero che di solito ancora è presente con qualche scarso ultimo rappresentante nella stupenda oasi di Gerico questa specie di smeraldo di tre chilometri di diametro messo nel deserto di Giuda e ancora oggi i pellegrini si fermano davanti a uno di questi ultimi sicomori questi alberi di vegetazione subtropicale in questa che è la città più antica del mondo e la città più bassa del mondo 300 metri più di 300 metri sotto il livello del mare si fermano e ricordano la storia di quest'uomo ma voi sapete che la storia di quest'uomo è proprio tutta nell'interno di quella decisione di quelle frasi che per Gesù sono la svolta radicale egli è ultimo e disprezzato ma quando pronuncia così per Cristo diventa primo do la metà dei miei beni ai poveri restituisco quattro volte se ho frodato qualcuno e allora il commento di Gesù il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto Montale ha scritto una poesia su Zacchea ed è proprio bella questa poesia perché è la storia di uno che non si è convertito invece per se stesso probabilmente lo dice che gli racconta che egli in questa breve lirica egli non si è sentita di andare fuori di casa sua a vedere passare questo maestro perché dice si tratta di arrampicarsi sul sicomoro per vedere il Signore se mai passi ahimè io non sono un rampicante ed anche stando in punta di piedi non l'ho visto Zaccheo invece nel racconto di Luca è colui che ha avuto questa fortuna di vederlo con un po' di fatica ma avendolo incontrato la sua vita da ultimo è diventata la vita dei primi per il regno concludiamo il lungo viaggio di Gesù la lunga marcia questa lunga marcia è una storia anche di spiritualità è una vera e propria parabola dello spirito abbiamo già detto che storicamente non è neppure attendibile che Gesù abbia fatto solo quel viaggio ma per Giovanni sembra quasi che Gesù sia stato tre volte a Gerusalemme ecco io vorrei allora ricordarvi che Luca ci dà un ultimo insegnamento proprio con questa struttura letteraria un insegnamento che adesso dobbiamo riproporre noi stessi un insegnamento che vale per credenti e non credenti l'insegnamento della vita come viaggio l'insegnamento dell'esistenza come nomadismo e soprattutto del cristianesimo come lunga marcia verso una meta guai a coloro che non hanno il coraggio di salire sugli alberi di uscire di casa di mettersi in cammino e di seguire Gesù Luca di fatti descrive il discepolo mentre segue proprio i passi del suo maestro allora io proprio vorrei finire con questa immagine anche il nostro pittore Timoncini l'ha usato un po' come grande segno il bastone i calzari come cornice che riassume tutto il Vangelo il Vangelo di Luca è una grande realtà di tutte le grandi spiritualità questa del viaggio dell'itinerario questa sera ve la ricordo attraverso una testimonianza la testimonianza di un grande mistico islamico in un'opera che è da poco apparsa anche in traduzione italiana il Verbo degli Uccelli di Faride Dinnattar grande mistico persiano del 1100-1200 vissuto a cavallo tra questi due secoli ora pubblicato anche in italiano dallo studio editoriale S-E il Verbo degli Uccelli è la storia mistica la parabola mistica degli uccelli che si raccolgono attorno all'upupa simbolo della sapienza e le chiedono di trasvolare verso il mistero verso una Gerusalemme che nella libro si chiama Simurg è in pratica il simbolo di Dio dell'infinito il regno dell'ineffabile e centomila uccelli decidono di seguire l'upupa in questo volo in questo folle volo un volo drammatico un volo faticoso il cammino di Gesù è un cammino che conosce anche il rifiuto questo verso Gerusalemme centomila veli cadono mentre si sta viaggiando verso il Simurg e durante il viaggio moltissimi cominciano a novere più la forza cadono o si fermano su un albero e muoiono lì oppure cadono per terra sfiancati oppure sono uccisi dai cacciatori sono uccisi dalle tempeste ma volano sempre l'upupa la sapienza sempre in vita a volare oltre e finalmente giungono sono soltanto in trenta uccelli trenta soltanto arrivano al Simurg e lì quando sono arrivati ancora protesi nel volo arrivano e all'improvviso si accorgono che il mistero di Dio è un immenso incendio per cui non riuscendo a bloccarsi prima ma a tratti da questo volo e da questo calore penetrano e sono del tutto consumati Gerusalemme assume anche il discepolo in sé ma mentre essi sono bruciati sono inceneriti diventano Dio stesso in quel momento essi vedono trenta mondi scomparire ricrearsi vedono tutte le meraviglie possibili capiscono il senso ultimo della vita e sentono l'ultimo degli uccelli che cade nell'interno di questo gorgo di fuoco l'upupa dire l'ultima frase che secondo me è veramente il cuore della spiritualità del nomadismo il cuore della lunga marcia di Gesù morire nella ricerca non è forse preferibile al soffocare nell'immondizia quieta grazie grazie